Scattano le prime multe a seguito delle entrate in vigore dell'ordinanza firmata dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli per limitare la somministrazione del consumo di alcolici in città. Oltre 20 le sanzioni e questo il bilancio della prima settimana colpiti sia consumatori che esercenti. Diciamo che la gran parte di queste 22 contravenzioni sono state le sanzioni ai cittadini che bevevano in quella zona che potremmo chiamare no fly zone, la zona della stazione ferroviaria e dell'incrocio di bus urbani ed extraurbani dove in quella situazione c'è anche l'ordine di allontanamento da parte della gente operante. In più sono stati fatti anche servizi ad hoc in orario serale e notturno. In due casi si è irrogata la sanzione per l'ordinanza che salvaguarda l'ordine e la sicurezza urbana ma si è irrogata anche la norma statale perché i negozi di vicinato hanno il divieto per una norma dello Stato che magari molti dimenticano di vendere dopo le 24 alcolici. E alle 2.05 e alle 2.10 sono stati invece trovati dei negozi di vicinato che vendevano alcolici. Contravenzioni che hanno riguardato anche i luoghi della cosiddetta movida retina. Sì, sì sì anche i luoghi della cosiddetta movida. Diciamo che quello che volevamo ottenere cioè che ci fosse questa riduzione del consumo di alcol nelle nostre strade è in parte raggiunto. Così come questa riduzione dell'abuso di alcol è ancora da valutare perché non saprei dire se queste contravvenzioni di fatto ottengono poi l'effetto che i ragazzi non vadano in comitivo. Perché poi uno dei temi che noi ci eravamo proposti di ottenere, i risultati che ci eravamo proposti di ottenere erano questo. Oltre a dare un segnale su quello che è il corretto utilizzo delle nostre strade che non può essere certamente quello della sbronza continua. Intanto si fa strada anche l'ipotesi di un eventuale rinnovo del provvedimento che ha una durata iniziale di un mese. Io ci ho pensato però è un'idea mia che devo sottoporre alla giunta e ci riuniremo nuovamente per discutere il destino dell'ordinanza cioè se procedere ancora a un rinnovo per un altro mese oppure no. Premetto che a mio modo di vedere sì. Per giovedì prossimo infine è previsto l'incontro tra il sindaco e le due associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio. Io avevo chiesto di incontrarle contemporaneamente ma hanno entrambe richiesto invece di essere ascoltate separatamente l'una dall'altra con una posizione a mio avviso discutibile. Se il problema è lo stesso lo discutiamo insieme.